i metodi convenzionali forza pegaso forza che stavolta ce la facciamo mannaggia alla miseria stavolta 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 non voglio dire altro compaio non ci voglio credere mi dice di salire da là compaio ma non lo vedi come è guarda là sopra ok ti vedo croce ti vedo stavolta stavolta non mi scappi quindi dici di prendere da qua mamma mia uff 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 ma dai io non so più che fare credimi ma è un piccolo cieco mi viene da piangere o proviamo a salire un pezzetto dell'altra e vedere se quella e vediamo quanto ci facciamo male dai andiamo a farci male siamo qua per questo oh mio dio oh dio oh dio cosa? la situazione non promette bene oddio diciamo che se magari lo riesco a portarla là ok uno due e tre ok però già uno due se dico che non fa per me io non è che devo per forza insistere ho come l'impressione ma ho bucato dietro oh finalmente ci siamo vai baby vai johnny oh oh che bel clacson salve vuoi andare avanti tu? non saprei che dirti compara fai strada questa volta è giusta non lo devo dire più ma questa volta è giusta ho letto c'è ancora ok siamo giusti? dai 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 io lo sapevo che in Giovannino avrei trovato un ottimo compagno di avventure ieri sera stavamo messaggiando su whatsapp destra destra e gli ho chiesto Giovanni voglio perdermi per la cinquinta volta vuoi perderti insieme a me? abbiamo una missione dobbiamo riuscire ad arrivare alla croce quella dove ahimè nel 72 c'è stato lo schianto aereo del volo all'Italia e lui mi ha risposto guarda ho appena montato le nuove gomme quale occasione migliore? in tutto ciò suo papà ha appena comprato la nuova GS1250 e quindi sì devo conoscere suo padre per forza in tutto ciò la telecamera se n'è andata a cacchi wow mamma mia lo strapiombo ciao bucchina piccolina no ragazzi ma dove siamo? ma che posto meraviglioso stancante da morire ma che cos'è? al lavoro operai salve temperatura dell'acqua 60 gradi va benissimo scusa vitellozzo mamma mia che si è morto 8 guard rail meravigliosa oddio oddio mettiamo Japan ti voglio ins wär capitolo Grazie a tutti.